Ciao a tutti, bentornati! Questo è un nuovo video outfit. Vado super velocissima perché mi stanno aspettando sotto, quindi come accessorio ho messo questi orecchini a cerchietto e come bracciali, i soliti bracciali e se notate qualcosa di strano ho fatto la lunghezza. Ho allungato le ciglia e ho allungato anche le unghie. Come trucco ho fatto solo una base e ho messo il rossettino, niente di esagerato. Poi, maglia ho messo questa felpa che avete già visto in un altro video outfit e sotto ho messo questa appunto canottierina rossa, giusto per riprendere se nel caso si alza un po' la felpa le rose. Come jeans ho messo questo che è un classico jeans a vita alta, niente di che anche perché ho fatto anche altri outfit, sotto nell'hippa box vi lascio i link. Come scarpe ho messo queste qui, queste classiche dell'Adidas. Sopra metto questo QA. A me piace tanto, è comodissimo, super leggero ed è richiudibile. E come borsa ho messo questa della Guess che è molto, molto grande e si può portare sia col manico che a tracolla. Vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video e noi ci vediamo al prossimo!